Ciao ragazzi, sono qui finalmente per presentarvi, l'avete capito tutti, compagni di cioccolata, il nuovo evento collaborativo di Monopoly Go, un evento che trancerà un limite tra compagni di autosalone questo nuovo evento e ci permetterà di ottenere un sacco di dadi e ricompense. Oggi sono qui per cosa? Per spiegarti come completarlo, come finire compagni di cioccolata. Se vuoi saperne di più su altri video che ho fatto trovi qua la playlist ufficiale, seguimi su Twitch, il live tutti i giorni, link qua sotto e anche su TikTok, mi raccomando, ti aspetto anche su quella piattaforma. Insomma, compagni di cioccolata si presenta così, il profilo è vuoto, senza monete, senza assolutamente niente, sono rimasto un po' disattivato dal tutto, non sto più giocando troppo, ma quando ci sono questi eventi collaborativi sono il primo a tornare nel gioco perché penso siano fondamentali per la crescita del profilo. Nel mentre ringrazio Giacco e ringrazio altri utenti che dopo andrete a vedere che mi stanno dando una grossa mano nella crescita, dovete sapere che ho già preso tutti gli scagnozzi che possono essermi utili e adesso vi faccio vedere chi sono questi scagnozzi. Nel mentre nelle pedine questi sono i miei brawler, abbiamo anche Giorgi che con un 24k entra subito a gamba tesa dentro il mio profilo, mi prende anche tutti i milioncini che mi servono, insomma, grandissimo Giorgi che mi stai dando una grandissima mano, Giorgio, e addirittura siamo quasi arrivati alla fine. L'obiettivo è come per gli altri eventi collaborativi, quello di finire tutto e adesso andiamo a vedere assieme il premio finale. Il premio finale l'altra volta era di 5000 dadi, quindi un risultato veramente eccellente da ottenere nel caso di, diciamo, di vittoria totale. Schiacciamo sopra e anche qua il premio è di 5000 dadi con una busta di adesivi da 5 stelle e la signorina Cupcake. Insomma, tantissima roba, questi dadi potrebbero essermi veramente utili e li andrò ad utilizzare proprio con Stermitz, che è quello che, diciamo, non mi ha chiesto esplicitamente, Vapor, voglio partecipare con te a questo evento, ma l'ho preso tra i vari che mi hanno mandato la richiesta per partecipare, quindi mi sembrava una cosa carina accettare anche qualcuno dei miei amici. Poi gli altri invece sono stati tutti recutati, saluto Federial e Giacco, che sono uno cugino dell'altro, e Giacco soprattutto mi ha abbonato molto fidato su Twitch e l'altra volta mi ha letteralmente cariato tutto, e quindi ho deciso di riprendermelo dentro. È uscita anche la nuova sfida, sliding, sfilata lavoratori, una sfida di quelle mie sliding, molto molto carina, perché soprattutto in questi casi dove è importante andare ad utilizzare le tortine per finire con panni di cioccolata, queste sfide sliding sono fondamentali, quindi vi consiglio di spingere un po' di più con il moltiplicatore, perché ragazzi veramente ce ne sono tante da andare a sbloccare, cioè io vi dico il profilo è letteralmente pieno di tutte ste cose, ne ha veramente tante, e soprattutto molto importante secondo me da andare ad analizzare è un altro aspetto, l'aspetto del come scegliere gli amici. Io vi consiglio di scegliere non gli amici magari che hanno il patrimonio netto più alto, ma quelli che sanno e sono a conoscenza del famoso bug dei dadi infiniti. Il video dei dadi infiniti è un bug che sta andando molto bene, un video che sta andando molto bene, ma soprattutto un bug veramente funzionante, l'ho spiegato nel dettaglio e vi consiglio di andarlo a vedere, ma in linea di massima c'è un determinato metodo che attraverso una duplicazione d'account tramite Parallel Space ci permette di ottenere veramente tanto, e quindi ho scelto tutte delle persone che sono a conoscenza di questo metodo, perché attraverso questo metodo tu sei in grado di ottenere molti più cioccolatini, ok? Quindi questo ti dà un grande vantaggio rispetto agli altri. Qua comunque andiamo avanti, per 10, non per 10, entriamo con rapine addirittura col per 50, gamba tesa, quindi 400 milioni in caso di vittoria totale, e li prendiamo anche, e questi soldi ragazzi lo sapete tutti verranno investiti all'interno del mio percorso di patrimonio netto, ok? All'interno del mio percorso di patrimonio netto questo perché? Perché voglio, il mio obiettivo è quello di sbloccare il più possibile e di arrivare vicino al 119, perché voglio sapere che cosa succede finito il 119. Detto questo salutiamo Giacomo, Federiale e Giorgio che faranno le nostre cose, io investo tutti i vari bastoncini che ho da parte in quella con Stermitz, ok? Che è uno nuovo, che mi ha mandato la richiesta di partecipare, ma io sono curioso di vedere quanto riesco effettivamente a fare con pochi giri, quindi immagino che anche lui giocherà effettivamente, ma gli voglio dare una mannina. Caspita, però tutte 400 me danno, eh? Dammi qualcosa di succulento, per favore. Ah, 500. Mamma mia, ma che schifo è. Oh, sganciami un 5000 ozzo. Mamma mia, ma è la carestia questa qua di Stermitz. Povero Stermitz, si deve beccare delle peggiori performance da parte del Vaporo. Comunque andiamo avanti di per 50 a stecca, senza nessun tipo di problema. Prendiamo tutti i soldini che ci servono, andiamo anche a prendere il Forziere della Comunità. Avete capito bene, Forziere della Comunità, che mi dà un sacco di cose, in caso di per 50, naturalmente. Ah, bella gufata del Vapor. Comunque non so se anche voi l'avete notato, ma è diventato velocissimo, per 50, non per 50, non lo so. Da me è tipo velocissimo, ed è una cosa molto strana. Comunque ho utilizzato, mi ha dato tutti quello che mi serviva. E adesso proviamo a potenziare, vediamo cosa riusciamo a fare col potenziamenti. Vi ricordo, se volete inviarmi adesivi, molto semplicemente, andate nel link qua sotto ed inviatemeli. Li accetto volentieri, ok. Guardiamo con 800 milioni, praticamente me ne avanzano 200, quindi 600 milioni per completare da zero un evento, cioè un passettino. Arriviamo a spiaggia al tramonto. Mi raccomando, inoltre, vi ricordo che per completare compagni di cioccolata, oltre a scegliere i compagni giusti, è importante avere dei dati da parte. Perché, soprattutto in caso come quello mio precedente, va molta fortuna. È vero che sono in giro per tutta la mappa, ste tortine al cioccolato. Però, comunque, in linea di massima, il mio consiglio è sempre avere dei piani di scorta, non rimanere poi lì attaccata al peruccio. Ti ricordo che, inoltre, anche le missioni e gli eventi sliding, forse il consiglio migliore che vi posso dare, è completa l'evento sliding. L'evento sliding, per me, sono quegli eventi che scorrono. Quindi, una volta completati, pam, 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 tiri delle legnate importanti, adesso vi dico il nome di quello in atto in questo momento, così ci capiamo sicuramente meglio. Sfilata, lavoratori. Mi raccomando, partecipate. Io sto tenendo pian piano degli adesivetti, faccio le mie cosette, andiamo bellica avanti. Vedete? 200, pum, ti dà la botta. Sia di biscottini, sia di soldi, sia di dadi. Insomma, è veramente un tocca sana, lo definirei io, e aiuta veramente tanto. Io investo tutto in quello di Stormiz, per una mia scelta personale. Magari è la volta buona che mi dà qualcosa, perché investo tutto, ma me dà poco o niente qua, eh. Ah, bene, bene. Bella schifezza, anche per oggi. Però, prendo 122 milioni, che sinceramente non butto assolutamente via, anzi. E comunque, ti ho già dato 6.000 punti. Signor, signor Stermi, voglio che lei faccia qualcosa anche lei. E ok, 6.500 punti, molto bene. Possiamo anche tornare indietro. E con questi milioncini continuiamo ad investire in moltiplicatore, e via, andiamo avanti. E questo è il metodo che utilizzo io per completare compagni di cioccolata, ragazzi. Mi raccomando, se volete vedere l'unlock del premio finale di compagni di cioccolata, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Se avete altri consigli e richieste, commentate qua sotto, seguimi su Twitch e TikTok. Ciao domani, alle 14. Ciao domani, ciao domani.